Ancora una volta... Ciao, no no ma che sollaio, no no, aspetta, aspetta Ancora una volta stiamo per assistere ad un'ingiustizia che è avvenuta su Minecraft Perché ormai Minecraft è cattivo, è ingiusto Il server dello youtuber Tubbo per ora ha chiuso a tempo indeterminato Server di cui vi avevo parlato quest'estate, Tubenet Hype 1000 È passato nel giro di meno di due mesi da essere il server più in hype a chiudere, di nuovo Prima di iniziare con l'argomento vi devo dire delle cose importanti, ci metto 30 secondi La prima è che sabato ci sarà la live Italia vs Francia contro dei youtuber famosissimi francesi Io insieme ad altri rappresenteremo l'Italia, mi raccomando non mancate Domenica mattina ci sarà una live specialissima evento dove in anteprima rilascerò la Mr.Domi 50k Che uscirà poi invece alle 14 sempre di domenica Quindi mi raccomando non potete assolutamente perdervi questi eventi Tubenet come molti di voi sanno era un server che doveva spopolare Non ancora era uscito ed era già partner di Twitch Quindi era veramente un server grosso Inoltre essendo il server dello youtuber Tubbo contava la sponsor di Dream Tommy Inmit e tanti altri youtuber famosissimi Il progetto comprendeva delle modalità minigame E successivamente sarebbero arrivate anche delle modalità farming Stra rivoluzionarie per esempio hanno in mente una sorta di survival futuristica Con le astronavi, razzi, voli, farmi, robe assurde Il problema è che in questo momento il server ha chiuso Grafica stra futuristica tipo Minecraft Bedrock Edition Animazioni assurde, tutta roba stranuova Che soltanto un altro server in questo momento può contare Ovvero MCC Island ma ne parleremo dopo Quindi davvero un progetto molto molto figo Con però un solo problema Non ha saputo reggere la competizione Ma competizione non a livello di chi fa il server migliore Competizione a livello di proteggersi dagli altri che vogliono distruggere il tuo server Questo è perché non si sa bene per quale motivo è straodiato come server Da parte della community dei giocatori di Bedwars, quelli di tossici O comunque in generale da multi hacker Infatti il server doveva uscire il 28 agosto Ma aveva problemi di lag perché continuavano a dossare e buttare il server E non riuscivano a proteggersi Quindi oltre ad avere problemi proprio di prestazione il server a causa degli hacker Erano anche invasi dagli hacker fin quando non li hanno portati alla chiusura Questo è perché dopo un po' di tempo ci hanno riprovato ad aprire In beta questa volta in maniera ufficiale a tutti quanti Quindi questa beta era accessibile a tutti Riuscivano a rimanere online e non crashare Con la differenza che però online il server era letteralmente invaso dagli hacker C'è uno youtuber stratossico si chiama Bedwars SS Questo ragazzo per qualche motivo che non si sa bene Anzi secondo me non ce ne sono odiatubbo a morte Ha fatto un video dove lo riempiva di insulti E aveva promesso che un giorno sarebbe All'apertura del server avrebbe mandato uno stormo di hacker a rovinarlo E così è stato Il server era letteralmente invaso dagli hacker Tubenet sarà un server che supporterà sia Bedrock Edition che Java Ed era palese che avrebbero avuto problemi di anti cheat Hanno sfruttato questa cosa e il server lo hanno reso letteralmente ingiocabile Persone su persone su persone che hackerano che proprio volano nelle partite L'anti cheat purtroppo non ha retto Si può definire che non lo so è un colabrodo È pessimo come anti cheat E pensate che non ancora possono entrare le persone da Bedrock Quando potranno entrare che casino sarà E forse proprio per questo motivo Che hanno immaginato che casino sarà Hanno realizzato che non potevano andare avanti in questo modo E hanno chiuso di nuovo Infatti in questo momento Tubenet non è accessibile È chiuso Ed è chiuso a tempo indeterminato Inoltre diciamo che hanno un po' rovinato anche tutta l'hype Perché il server lo abbiamo provato in live Lo abbiamo visto in video Molti di voi lo hanno provato Il server purtroppo c'è da dire Che è molto più estetica rispetto a fatti Perché manca di quella roba che ti fa continuare A giocare sul server Io in primis Dopo che l'ho provato Non mi è venuto da rientrare dentro A differenza di un altro server Che mi ha sorpreso molto di più Perché io personalmente ci puntavo di meno Ovvero MCC Island Server che ora sta dominando la scena Non ci credo si è salvato Server che ora sta dominando la scena E ha davvero molta hype Perché sta davvero rispettando le aspettative che aveva dato E sta piacendo un sacco E posso dirvi che io personalmente non me l'aspettavo Perché il server è da più di un anno che è stato annunciato E sembrava molto che fosse uno di quei progetti che inizi Ma poi usciranno tra millemila secoli E invece signori Mamma mia quanto è bello poter dire Invece in senso positivo MCC Island sta davvero rispettando Anzi alzando l'asticella Di quello che si pensava fosse il server Che è veramente una roba spettacolare Mi sta piacendo veramente veramente un sacco Raga questo server Ha un sacco di roba assurda E si sono inventati anche dei cosmetici Tipo Lunar Client Ma proprio dentro il server E la cosa che viene da pensare ovviamente è Se il server è così in beta Può soltanto aumentare la qualità Andando poi in un release ufficiale E il punto è sempre lo stesso Oh mio dio che figo No vabbè Voglio questo cappello O il martello Posso prendermi il martello? Ho copiato il martello Anche l'elmetto Cioè capite quello che intendo Lo capite? Sando due secondi qui ho scoperto un'altra figata Questo c'ha tipo Ma che cos'è? Cioè vedete Ti viene voglia di giocare Per poter sbloccare anche queste cose Che sono strafiche da vedere E vedete a quello di cui mi riferivo? Un qualcosa che ti fa venire la voglia Di continuare a giocare Cosa Che in realtà Signori Io sto sentendo Venire mancare Anche Alle bedwars Anche Ad i pixel in generale Perché purtroppo Non esce un aggiornamento Fatto bene Da troppo tempo E non possiamo restare Sempre sulle stesse cose Minecraft è bello Perché vario E non puoi Non variare Altro sono morto malissimo E il problema degli hacker Colpisce davvero davvero tutti E sta diventando sempre più grande Questo problema E Minecraft non fa nulla Per risolverlo Se non per esempio Pensare alla chat Di Minecraft da moderare E diciamo che è il problema Minore tra le due Tantissimi server Chiudono per hacking Oppure tantissimi server Vengono hackerati Come il server Della Mojang stesso Che durante il mob vote È stato costretto a chiudere Perché appunto Veniva hackerato Non ritengo Accettabile una cosa del genere Minecraft Dovebbe risolvere questo problema Davvero Da un sacco di tempo Prima che comunque Porti A fare Grave perdite al gioco Perché Parliamoci chiaro Minecraft Principalmente È giocato in multiplayer Che In single player Quante persone Giocano i server Invece Quante persone Giocano a una vanilla Oppure Quante persone Giocano Ad una vanilla Rispetto a quando Giocano sui server Comunque È stra difficile Da giocare Ovviamente Signori Come vi dico In ogni video Fatemi sapere La vostra opinione Nei commenti Li leggo sempre Tutti quanti Mamma mia Quanto è bello Sto cappellino Da viaggiatore Pazzo Pazzissimo E fatemi sapere Secondo voi Quale sarebbe Una soluzione A questo problema Perché Lamentarsi Lo possono far tutti Cercare invece Una soluzione Per il problema Quello lo possono fare Pochi E voglio sapere Voi cosa ne pensate Vi dico la mia Implementare un sistema Che riconosce Una sorta di Anti cheat Come fanno Altri giochi Come per esempio Valorant Perché che loro Lo vogliono accettare o meno Minecraft ha un multiplayer E va tutelato In quel modo Va appunto Supportato E non lasciato in mano Alle persone Che devono spendere Tantissimi soldi Per degli anti cheat E cercare di Aiutarsi Da soli Dovrebbe esserci Un supporto Proprio da parte Del gioco Secondo me Fatemi sapere Anche cosa ne pensate Di minecraft Nell'ultimo periodo La 1.20 Io ora A parte tutti i problemi A parte tutte le cose Straconcentrato Per l'evento Contro i francesi Perché dobbiamo farci valere Dobbiamo assolutamente Vincere contro di loro Non accetto Sconfitta Ma proprio di alcun tipo Non l'accetto Tocca vincere Come tocca vincere Anche questa partita Siamo 4 contro 2 Possiamo vincere Possiamo Possiamo vincere Senza problemi Tutti uniti Tutti uniti Distrutto Dietro attento Bro però Mi devi dare una mano È rimasto in 1-1 Il mio compagno Per favore Per favore Fai il serio Che già mi hai lasciato morire Non scherzare Da che te lo fai È tuo Let's go Oh Penso che forse Questa è la mia prima win Su questo gioco Mio dio E sono anche al secondo posto Nel gioco Con 4 kill E nulla signori Io Il mio martello da Thor E il mio cappellino da viaggiatore Vi salutiamo Mi raccomando Lasciate un bel like Ci si becca Domani alle 14 Con un nuovo video Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.